Ormai è fatta, a Crotone la Serie A è già sbarcata. Il successo sul Como, qualora ce ne fosse bisogno, lo ha confermato. Modesto apre le danze, Budimir le chiude. Altri tre punti in cassaforte, massima serie sempre più vicina. Non ancora in tasca però. A far esaltare l'aritmetica promozione, l'ottava vittoria consecutiva del Trapani. La squadra di Serse Cosmi affonda anche il Cesena, portandosi così al terzo posto. Scavalcato il Bari, fermato dal Modena, a meno 12 dai Rosso Blu. Un dettaglio che non cambia la sostanza perché a Lezio Scida la festa è già iniziata, per le vie della città anche. Lo stadio pitagorico è una bolgia e quando al venticinquesimo Palladino inventa un assist di tacco per Modesto che torna al gol dopo quattro anni sugli spalti è follia pura. Un'asse, quella formata dagli ex Parma che al quarantacinquesimo confeziona l'azione del 2-0 con il tocco del solito Budimir. Sedicesimo centro stagionale per l'attaccante croato. Il Como, ormai spacciato alla retrocessione, è assente. L'opposto del Trapani che 500 chilometri più in là asfalta il Cesena strozzando in gola l'euforia calabrese. Gioia che dista solo un passo. Al Crotone basterà conquistare un punto nelle prossime quattro gare per volare in Serie A. Venerdì a Modena un altro match ball. Da Crotone per la C News 24.